Serena Bruno, geniale architetta abruzzese, torna in Italia e scopre a sue spese che non è facile essere notata. Per trovare il lavoro finge di essere l'assistente del dottor Bruno Serena, ma a reggere lo stress della truffa implica la presenza di un complice ineccepibile, il ristoratore gay Francesco. Tu sei pazzesca, ma da dove spunti tu? Ora scoprirà che niente è scontro. Promosso a pieni voti, Scusate se esisto, di Riccardo Milani, trasforma la classica commedia degli equivoci nel divertente racconto delle nuove crisi di un'Italia che si ostina a ripetere in eterno gli stessi errori. Beh, cosa hai fatto? Senti, ho fatto quello che si aspettava, un architetto, un uomo con una segretaria donna. È un piacere fare la sua conoscenza. Paola Cortellesi è l'interprete ideale e il regista è stato intelligente nello sfruttare la duttilità di un'attrice, qui anche sceneggiatrice, che ha saputo colorare il suo personaggio con originalità. Normalità. Paola Cortellesi, Raul Bova. Francesco! Scusate se esisto.